Quanto mi secca dover correggere Compiti svolti con Photomat Certo non pecca chi si mette a copiare Il compito tutto da Photomat C'è oggigiorno la pretesa Di ottenere tutto e subito Un'espressione, un'equazione Ci pensa l'istante Photomat E quel che è peggio è che si ritiene Che la cosa vada bene Senza incorrere almeno questa è la speme In nessuna sanzione Però adesso io penso A chi ogni giorno ci prova Senza usare Photomat Se ha qualche senso per chi si trova A casa sempre a studiare Il voto finale Che sia meritato o meno Non interessa la classe mia Questione banale Perché è uno scemo Chi non usa la tecnologia Chi non usa la tecnologia Chi non usa la tecnologia Chi non usa la pandemia